Famiglia le prese con i rincari calano le vendite per il commercio. L'analisi di Massimo Di Porzio, presidente della Confcommercio di Napoli, che a poco più di dieci giorni dall'inizio dei saldi conferma spesa pro capite in calo rispetto allo scorso anno. Purtroppo il problema dell'impatto energetico, quindi del costo dell'energia sul bilancio delle famiglie e dei consumatori, da un lato e dall'altro sicuramente il tasso di inflazione che è arrivato a oltre l'11%, incide molto sulla capacità di spesa, perché incide sul potere di acquisto dei consumatori. Quindi secondo me magari si è venduto anche un po' di più, però sicuramente l'incasso è stato più basso. Si acquistano beni più economici, quindi sicuramente da un lato c'è un introito da parte dei commercianti, dall'altro però è confermato questa riduzione della spesa pro capite, almeno nei primi giorni di saldi. E dunque, secondo l'esponente dell'associazione di categoria, bisognerebbe innanzitutto garantire maggior potere d'acquisto alle famiglie. Secondo me serve un intervento a livello governativo per abbattere il cuneo fiscale. Vuol dire che chiaramente se noi riusciamo ad abbattere quello che è il costo del lavoro, inteso come tasse, da dover pagare, questo determina chiaramente un impatto su tutte le attività, perché se si hanno più soldi si spende di più e quindi in un certo senso si fronteggia questo inclemento dell'infrazione, che purtroppo riduce almeno del 10%, se non il 15-20% il potere di acquisto dei consumatori. Grazie.